Musica Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale Io sono Monkey di Andre Ed oggi andiamo a continuare questo fantastico gioco Che mi sta piacendo un sacco Andiamo alla selezione del capitolo Dovrebbe chiamarsi la cucina Andiamo con lo zoom E vediamo che dobbiamo trovare tre nomini da abbracciare E tre statue da frantumare Io mi metto le cuffie e si parte Ok Six sveglia Dobbiamo andare avanti Ovviamente Dividerò anche questo video in due Se sarà troppo lungo Ma immagino di sì Allora saliamo questa tubatura Con l'acqua che ci cade in faccia Che sono sti ganci? Ma tipo mi posso appendere uno di loro? Saltando? Sì che posso Ok Non so l'utilità Di questa cosa Mi sono spaventato Mi sono spaventato Sì 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 Mi sono spaventato Ok veniamo spinti dal saccone Che schifo Credo siano bambini Morti appesi Di sopra E va bene Se mi fa prendere un colpo Posso cosa? Ci posso salire sopra Ma non lo posso aprire Diciamo Vabbè Se mai qui sicuro Mi devo appendere Eh figurati Ok Appendiamoci e saliamo su Ecco il cuoco Immagino sia Quello lì che si è intravisto Alla sezione del capitolo Posso lasciarmi andare? Sì Allora Di lanterne Non sto più mettendo Il counter Di quante lanterne Sono da trovare Perché Per il trofeo Basta trovarne 20 In tutto E già solo nel primo Capitolo Vi ho fatto vedere Come trovarne 9 Di lanterne Quindi È inutile Andare a esagerare Anche perché vi dico Questa cosa che faccio io Di far apparire I numerini 1 di 2 2 di 2 Eh Non è Non è così immediata Oh madonna È sempre a morire di fame Sta questa Ed Una cosa che vorrei capire È Ma Muore di fame Se non ci sbrighiamo A Ad andare a trovare il cibo O continua solamente A lamentarsi Tra le virgolette Che poi vabbè Poverina c'ho fame Comunque si vi confermo Che Six È una femmina Allora qua sopra C'è niente No Cosa è stato Un topo è stato Intrappolato Cioè è stato preso Da una delle Trappole queste Tra l'altro Ce n'erano altre Dentro Non la posso far scattare Ce n'erano altre Negli altri capitoli Ma Non scattano Con le trappole Allora qua sopra C'è qualcosa Non posso far nulla Continuiamo Oh poverino Vedete che avevo ragione È stato intrappolato Ho sentito il rumore Oddio Ma devo mangiarmelo Ah vedete non Non usa neanche più L'accendino Non posso fare più niente Non salta Non fa nulla Eh six Mamma mia Era ancora vivo Eh però poverina Lei stava morendo Lei stava morendo di fame Che doveva fare Qui sotto c'è Qui sotto c'è niente No Qui non si può salire Qua si può aprire Sta roba No Si può fare una mazza In suo capitolo Allora Qui non si può passare E dai Aspettate Questo si può aprire Questo sportello No È bello questo capitolo Mi sta piacendo un sacco Un sacco di cose da trovare Allora Accendi sto posto Non vedo niente Le Dove riuscite a rampicarsi Che bravo Qua c'è qualcosa Secondo voi Questo Si può spingere giù Si Che figo Quando Capisco al volo Ste cose Perché mi piace un sacco Esplorare quant'altro Mi piacciono i giochi così Però qua sopra Non ho trovato ancora Nulla Cioè in questo capitolo Non ho trovato ancora Niente di niente Va bene Oh cavolo Ma no Ah si invece Ho trovato una statuetta da rompere Ok Possiamo prendere questa lettera Questi quadri Questa candela è già accesa Non vedo nomini qua sotto Figo però Una statuetta è già trovata Qui non si può andare Va bene Niente Ah vedete si vedeva comunque Che c'era un buco Cioè adesso l'ho visto Ok Figo 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 Un sacco Di qua c'è niente Qui probabilmente si spingeranno le porte Per passare Va bene Entriamo Mi sembra l'ingresso tipo In cucina appunto Non ancora Oh Maffanbagno Sì Mi sa che cavolo c'è a destra Che non vedo niente Ah niente Uscilla Semplicemente Allora questo lo dobbiamo spingere Semplicemente Per entrare Ok Allora Fatemi vedere Se posso fare Qualcosa Dai Six Spingiamo sto carrello Non c'è niente qua Allora Saliamo qua Che ansia Oh Questo lo posso spingere Sto tappo Visto che si muove così Allora E' normale Che non abbia ancora trovato Nomini Scusate Fatemi vedere Che cavolo C'è di qua Perché siamo arrivati Alla cucina Praticamente Oh mamma santa Allora Lì in basso a destra Vedo un buco Lì sopra c'è un cappio Lì sopra c'è un cappio Qui Buco Passiamo in mezzo Ok Spegniamo la luce Ancora ci vede Ma Cosa devo fare Esattamente qua C'ha il fiatone Ma che brutto Non si apre Non si apre Mi fa Mi fa Mi briviti Sto coso Ma che schifo Ma speravo tornasse di qua Ma scusate Fatemi vedere se Posso aprire questi No 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 Non c'avevi infame Mangia qualcosa Qui posso aprire Ti rumori fai Six Ma qui posso tipo Lanciarlo là dentro Là Oh Muoviti 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 Ma mi ha buttato dentro La friggitrice Tipo Si è messo a guardare Lì sotto Eh Il nomino Non l'ha visto Fatemi salire Qua sopra Via 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 Accendi Questa Oh Mangia di sto pane Cretino Ma che schifo Ma sta scatarrando Malissimo Ma io Ok Di buono C'è che mi ha fatto Ricominciare da qua Però Fatemi vedere Una cosa Ma devo trovare La chiave Praticamente Se dove Lì c'è il nomino Allora Tutto bello Ok Mi ha fatto Ricominciare Dalla sopra Ma da sopra Ho visto Anche il nomino Perché i nomini Se non li facciamo muovere È un problema Dai però Ti muovono Mi fa perdere Mi fa perdere tempo Vediamo se faccio Un rumore Dai vai a guardare Di là Maledetto Cratino Dove sono finiti i nomini Non venire di qua Per favore Ma vai di là Allora Allora i nomini Li abbiamo fatti muovere Ora Andiamo su Sperando 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 Vada bene così Questo qua Lo prendiamo E lo spostiamo E Non fa rumore Comunque Saliamo Di qua Dai Dai six E il mio problema È che voglio Trovare tutti i nomini Non tanto Riuscirono A fare tutto Ok Uno L'abbiamo trovato Questa è una saponetta Ci possiamo lavare Glià Ma intanto Lì sopra C'è una candela Intanto E la accendiamo Troveremo anche La chiave Di qua Anzi Domanda Si può tornare Indietro Di qua No Chi cavolo È capo E chiudo la porta Casi Ciao Ammino Ma c'è qualcuno Che dorme Di qua Sì Piano 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 Dov'è il nomino Che cavolo È un grizzly Ho trovato la chiave Però Allora Aspettate un attimo Lì ok C'è il nomino Va bene Qua che cavolo Devo fare Ma qui Per tornare giù Molto probabilmente Ok Ma è troppo presto Mi piacerebbe capire Come Fare il tutto Perché secondo me Tipo mi devo dondolare Con quella roba Fino in là Allora Aspettate Aspettate Allora Sì Il tizio Se n'è andato Carino Molto carino Ok Ora Sì ma Scusami I nomini E Non saprei Dove altro Cercarlo L'omino Il nomino Allora Con l'ascensore L'abbiamo già attivato Allora Questa parte La sto registrando In realtà Per il secondo Per la seconda parte Del video Ma la inserisco Nella prima Per evitare Che scendiate Senza prendere Il nomino Perché Nel fare La seconda parte Invece che fare Riprendi la partita Sono andato a fare Seleziona capitolo E quindi Ho dovuto fare Il livello da capo Ma È stato un bene Perché Guardate Andando di qua Ho esplorato un attimo Guardate cosa c'è qui Il Sarebbe il secondo Nomino Per me il terzo Perché l'altro L'ho già trovato Ok Benissimo 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 Ora Vedrete la fine Della prima parte Io vado Al punto In cui sono arrivato Nella prima parte Inizierò a registrare Il secondo Video Di questo capitolo La cucina È un po' contorto Spero di essermi spiegato bene Entriamo dentro Scendiamo Immagino Ok Ok Finomino Siamo dove eravamo partiti Prima Allora Lasciatemi Allora Lascio la chiave Un attimo Lì E mi ha visto Maledetto Scorreggia Poi mi acchiappa Pezzo di cane Allora Potemi provare una cosa Dai Su Six Che mi fai perdere tempo Intanto Mi metto qua sotto Lui non dovrebbe fare niente Spero No Vedete Se ne frega altamente Di lui Ok Ok Non la carota Abbraccialo Ok Primo nomino Abbracciato Ora Con la chiave Dobbiamo andare Dall'altra parte Dov'è il Il Cretino Ma dov'è Vedete I nomini Ce ne è ancora due Vai qua sotto Vai qua sotto Vai qua sotto M'ha chiappato M'ha chiappato No Non c'è nessuno qua Bravo Maledetto cane Non ti girare Non ti girare Non vuoi fare Non vuoi fare Muoviti Six M'ha chiappato M'ha chiappato M'ha chiappato M'ha chiappato Dove vado Dove vado Dove mi nascondo M'ha chiappato Non voglio cadere Non voglio cadere Voglio vedere se c'è qualcosa Da prendere qua Lui è qui Eh sento i rumori Ma Porca miseria Non la puoi chiudere Sta porta Perché sta venendo qua Perché Dai Passati qua Six Qui sotto c'è un nomino Sì Abbraccialo Mamma mia Che fatica Eh di qui si sale No Si sposta la panca Mi sa di no Allora aspettate Perché qua No Aspettate Aspettate Forse ho trovato Questa qui è roba segreta Perché ho visto La statuetta di là Fatemi vedere Prima di chiudere La prima parte Vorrei fare questo Eh No Ascoltati Oh Illumina la tua vita Trofeo guadagnato Distruggiamo la seconda Statua Fatemi vedere Se c'è qualcos'altro Qua sopra Ma quello è un nomino Morto? Sì è morto Eh in ogni caso Non lo posso raggiungere Quindi Va bene Torniamo Qui muovi la stessa vicina Allora siamo a due nomini Su tre E due statue Su tre Figo Scusate Però io vorrei capire Cioè dopo che ho tirato giù il prosciutto Non ho capito il senso Di questa cosa Però Vabbè Ah aspettate Però io non posso più tornare indietro Ah no sì 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 Ok Ora Il nomino l'ho abbracciato Sì sì È stato il secondo Ora sicuro Sono da fare un paio di cose Uno E girare questa manovella E due Del tritacare Ma facciamo le salsicce Che figo Ok ho capito Ora Ah No vabbè Praticamente Noi abbiamo fatto cadere il prosciutto Sulla botola Con quel cosa abbiamo aperto la botola Con quelli lì abbiamo fatto la carne Adesso dovremmo poter appenderci Per saltare di là Magnifico Magnifico Però ci serve altro prosciutto Eh ma C'è altro prosciutto Da mettere là sopra C'è sta roba Sì Oh Bellissimo Bellissimo Vi giuro Bellissimo Molto figo Molto figo Guardate abbraccio di nuovo Perché sono contento Ho paura di aver dimenticato Ah no Aspettate Ok un pezzo di salsiccia Ogni Ogni pezzo di prosciutto Che abbiamo buttato No vabbè Cioè complimenti a chi l'ha pensata Dicevo Dicevo ho paura di aver dimenticato Un nomino E una statuetta Perché se il livello è finito Eh Ci manca qualcosa E' un po' di aver dimenticato Chi lo dice che ho finito il livello E' un po' di aver dimenticato E' un po' di aver dimenticato Dipende da quanto dura Il primo video Con tutti i vari tagli Allora Ci manca appunto Solo una statuetta E poi è finito il capitolo Però non so Quanto ci vorrà Per quello dico che Forse potrei unirlo All'altro Allora qui si vabbè Era l'unica cosa Che potevamo fare Oh 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 Eh vabbè Non mi aspettavo Spuntasse lui Così scusate Vedo un bel nascondio qua Allora fatemi riprovare VSX Rimane aperto Se rimane aperto Appena lui si leva Dalle scatole Oh 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 Ho preso un pezzo di formaggio E' in cucina Dimmi che si attiva L'ascensore Si Bene Ma lui sta arrivando Mi aprirà quella porta O schiaccio il pulsante E apre la porta Perché lì alla leva Non ci arriverò mai Eh ciao Vado sotto il tavolo Mamma mia quanto sei brutto Zio Passiamo qua sotto Lì c'è una chiave Come la prendo Dove la porta Allora porta la Che ne so Dietro di te sta carne Levati da lì però Oh Che fai dormi Ma intanto si blocca Madonna che ansia Aspettate Aspettate perché adesso Adesso ricomincia Sì ma Dove è la serratura Che dovrei aprire Sarà di lì Allora aspettate Adesso ricomincia A battere Con la mannaia No Appena si accascia Di nuovo Ma che cavolo ha sotto La faccia Ma è finta Quella faccia Allora lì c'è la chiave E va bene Se lui non si sposta Potrebbe essere Un problema Aspettate Allora Intanto ricordiamoci Che mi manca L'ultima statuetta E non voglio Perdermela Allora lì probabilmente Secondo me Devo attivare Quel pulsante Levati Six Lasciami in pace Maledetto trippone La chiave Per cosa mi serve Six Per cosa mi serve La chiave Oh giusto C'è un lucchetto Di là Dai 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 Muoviti 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 Spicciati Prima che arrivi lui Prima che arrivi lui Dai Six Che quello arriva Quello arriva Quello arriva Quello arriva Beh cosa per il cesso Statuetta Statuetta Sì Tre statuette Su tre Ok se finiamo Abbastanza in fretta Il video Faccio tutt'uno Con la prima parte Non ha senso Andare a farne due E Come torno indietro Si sale di qua Si No forse dall'altra parte Ok Madonna mi sono cagato in mano Qui non posso salire Mettiamo la luce Ma non devo vedere lui Che va in bagno Vero No Ma vediamo prima Se c'è qualcosa di qua A destra Oddio Adesso sono in due Ma Allora Statuette E cose Le abbiamo prese tutte Quindi Ma di qui Non posso salire Ok E fin lì Di qua Si volendo Giusto No È errorissimo Errore Errore Se si mettono Tutte e due A cercare sotto Sono spacciato Non ti girare Non ti girare Non ti girare Six Scappa Six Eh Dove cavolo Devo andare Qui Devo attivarlo Vai di sotto Io non ho idea Di che cosa sto facendo Non ne ho veramente idea Dove è finito L'altro tripone Devo tipo Poi Fermo 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 Devo tipo Usare le pile di piatti Per salire di lì Perché abbiamo attivato Un congegno Di là Però Fino a che non si sposta Questo Eh Sono arrivate tutte e due Aspettate Aspettate Qui c'era il buco Di là Devo salire Boh Dai Six Perder tempo O di qua Forse ho trovato Forse ho trovato No tu non ci arrivi Lì sopra Dai Non puoi arrivare lì Ora Sì dai Secondo me È ok Perfetto Perfetto Mamma mia Non mi prende Vero Tirati su Che figo Che figo Che figo È finito il capitolo Vero Oh Quello mi acchiappa Oh Ma io non mi posso Cagare in mano Così ogni volta Però Eh sì Scivola qua sotto Quando si Adesso arriva l'altro Vero Ciao 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 Oh madonna Mi tirano le bottiglie Che figo però Che figo Dai è finito il capitolo Sicuro La cucina Te l'ho fatto guadagnato Mamma mia Ok No allora Torniamo Qui subito C'è C'è un segreto Di qua No vabbè Ho subito trovato Un nomi Ok Ho subito Per il prossimo capitolo Va bene Torno al menu principale Allora Io direi che questo video Può finire qua Credo E dico credo Che unirò tutto In un unico video Prima e seconda parte Perché questo video Sta durando 13 minuti In questo momento Tra intro Outro E quant'altro Quindi farò dei tagli Anche in questo video Ma credo lo andrò a unire All'altro In modo da fare Un unico video Anche se un po' più corposo Perché questo qui Sennò verrebbe veramente Di pochissimi minuti E almeno abbiamo tutto Nel video Che vi dice Dove trovare le tre statuette Più i tre nomini Da abbracciare Io spero vivamente Che questo video vi sia piaciuto Se è così lasciate un grande like Iscrivetevi al canale Per chi ancora non l'avesse fatto Ovviamente Ed attivate la campanellina Così youtube vi manda le notifiche A me questo capitolo è piaciuto tantissimo Fantastica la parte finale Veramente bella 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 Fatemi sapere se anche a voi è piaciuto E lasciatemi un commento qua sotto su youtube Iscrivetevi anche alle mie pagine Instagram Telegram Facebook Basta credo In modo da potermi contattare Se mi volete chiedere qualcosa Come fanno già alcuni Che è una cosa che mi fa un sacco piacere Io vi ringrazio per aver visto il video Fino alla fine E noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Grazie a tutti.